Buonasera e bene arrivati a quest'ultimo nostro appuntamento sull'arte americana. Oggi parleranno Cornelia Lauf e Daniela Salvioni, sono due storiche dell'arte, entrambe nonostante il nome di Daniela Salvioni, americane, che hanno trascorso gran parte degli anni Ottanta, correggetemi se sbaglio, a New York e credo che ne abbiano visse di tutti i colori e speriamo in qualche modo oggi di poter partecipare a questa esperienza, soprattutto di un'epoca di grandi cambiamenti e molto significativa per capire l'oggi. Io ringrazio moltissimo Daniela e Cornelia per aver accettato il nostro invito, voi per aver partecipato alle conferenze e a questo punto come si fa a scuola? Ci vediamo a settembre. Arrivederci. Dicevamo sono americane, parlano molto bene l'italiano, però il ringraziamento anche per il loro sforzo di parlare in italiano in questa conferenza. Se voi insistete, parlerò inglese. Qualcuno insiste? Ok, noi siamo ovviamente middle-aged curators, ci conosciamo una vita, due donne, io sono di nascita tedesca, sono andata a vivere a New York all'inizio degli anni Ottanta, quando c'era una onda di influenza italiana, le grandi gallerie, Leo Castelli per esempio, anche piccole gallerie. Ho lavorato per Salvatore Ala in 1982 con Michelangelo Pistoletto, con Giuseppe Penone. Ala era uno dei primi a portare gli artisti graffiti in evidenza e ho imparato un sacco lì. Oggi volevo farvi un giro piccolo, tipo per 20 minuti, nella New York che abbiamo conosciuto da un punto di vista leggero, New York Light, e poi darò la parola a Daniela che vi parlerà della sua obiettiva. Volevo ringraziare due studenti che mi hanno aiutato anche con la ricerca in questi mesi, Nikki Segara e Carolyn Liu, che purtroppo sono lì, dalla RISD e dall'Institute of Fine Arts a Boston. Purtroppo non capiscono italiano, allora forse fra poco se ne vanno, però... Io uso questa conferenza per farvi vedere che cosa intendo di New York io e come lo interpreto oggi vivendo qui a Roma in Italia. So, questo è... Possiamo abbassare qui la luce un po'? Mr. Tecnico, lui sta mangiando un hamburger lì e non ci vede, scherzo. Questa è un'immagine di Heim Steinbach, che è un artista dei cosiddetti anni Ottanta, che vuol dire niente, lui lavora dalle anni Settanta, lavora ancora. Questa è un'immagine che è presa da una galleria a Parigi, è una parola trovata che lui prende dalla pubblicità, è una parola che si vede un po' nel linguaggio del concettualismo. Se facciamo un schema molto largo, gli anni Ottanta erano una reazione, ovviamente agli anni Settanta, al minimalismo, al concettualismo ortodosso, all'uso della parola o dell'apparato del linguaggio come sistema per capire il mondo. Gli artisti degli anni Ottanta, si dice, la cosiddetta Pictures Generation, o gli artisti che hanno usato strategie come appropriation, hanno sostituito oggetti, immagini e fotografie, anche ready-made, per la parola che gli artisti della generazione prima hanno lanciato. E Steinbeck è una figura chiave al bivio fra il concettualismo del vecchio stile e quella nuova tendenza. C'è anche una cosa che normalmente non è inserita in discorsi di arte, è l'influenza del design, della moda, dell'architettura sull'arte. L'impatto dell'arte, della pubblicità è molto forte anche negli anni Ottanta, se uno pensa alla crescita delle aziende come Swatch o aziende come Absolute Vodka, oppure Illy ha cominciato alla fine degli anni Ottanta, mi sembra, con le campagne pubblicitarie che usano strategie di, qui per esempio, l'artista Daniel Spurry, però usato nel mondo della pubblicità. Allora c'è una cosa che succede a New York, però è lanciato anche a Milano. New York è una idea, New York esiste anche nel dialogo qui a Roma, o nel dialogo a Milano, negli anni Ottanta dove strategie di muoversi sono discusse. Voi sapete forse che Achille Bonito-Oliva ha sviluppato questa idea della transavanguardia in una situazione che includeva le gallerie e gli artisti più di grande importanza fra Roma, New York e altri posti. New York è un posto dove si raccoglie tutto, però sono iniziative che spesso cominciano in altre parti, con artisti che, per esempio, Montadas è un grande artista spagnolo, lui vive lì dalle anni settanta, penso, continua la sua carriera spagnola, però è anche un artista new yorkese. Voi avete sicuramente già capito che cosa è New York in queste settimane. Io sono andata lì quando c'era questa tendenza della strada, adoravo sempre l'artista René, che si è autotitolato il migliore artista del mondo e l'ha segnalato su ogni muro che trovava a New York. All'epoca, quando sono andata a vivere lì, c'era una galleria Holly Solomon che era molto interessata in pattern painting e anche negli interni. lei ha sviluppato i collezionisti attraverso l'arredamento anche, pubblicando libri, tipo questo qua, che è degli anni ottanta, su come vivere con l'arte. Qui si vede una scultura di Donald Judd accanto a qualcosa di Robert Mangold, accanto a qualche mobiletto, forse degli anni trenta, però l'arte non è mai un fenomeno staccato dal resto della vita, come voi lo sapete, essendo italiani soprattutto. Questa è la stessa epoca che Louise Lawler sta facendo, sta cominciando a fare fotografie esattamente come queste, come critiques di questo tipo di allestimento. però queste immagini dove c'è il Twombly e Lichtenstein accanto al cammino, a due centimetri del cammino, sono tutte immagini del libro e non sono immagini di Louise Lawler. L'epoca anni ottanta è anche l'epoca ancora dell'environment art, ci sono artisti vivi tipo Vito Aconci o Nancy Holt, tutto è parallelo, non è che gli anni settanta sono finiti, tutti gli artisti sono morti, sono tutti vivi allo stesso tempo, nel stesso brodo. Qui all'angolo di La Guardia Place e Houston, la scultura di Alan Sonfest, che è una delle cose più poetiche a New York, voi conoscete questa cosa che è un piccolo pezzo di terra dove crescono i fiori come nel Settecento. lui ha fatto una scultura vivente, lasciando, scegliendo le piante che erano lì quando New York era colonizzato. Lui ha ideato questo lavoro negli anni sessanta e io penso che è stato installato all'inizio degli anni ottanta. Io ho lavorato per Alan Sonfest, anche come un piccolo lavoro iniziale, environmental art, che uno pensa agli anni sessanta, Smithson, eccetera, però negli anni ottanta continuava pure anche questa tendenza. Negli anni ottanta si vede a New York soprattutto l'influenza della teoria francese, soprattutto, e artisti come Marcel Brotard, la nascita di riviste come October, la presenza di artisti come Guillaume Bale, un altro artista belgo, che hanno aggiunto un aspetto surreale anche al discorso. Questa è una mostra che è simile a un negozio perrucca. Sembra un parrucchiere, però è un spazio di arte. Sarebbe come se uno entri qui al Palazzo delle Esposizioni e trovi solo Lamborghini in mostra, però potrebbe essere una mostra di Guillaume Bale che trasforma il luogo in un'altra cosa. e Brotard, Sebel, Reinhard Mucha, negli anni ottanta c'era tutto un influx, soprattutto di artisti europei, e vi leggo alcuni nomi, Thomas Locher è venuto, Kippenberger, Imi Knöbel, alla fine degli anni ottanta Franz West sono venuti, New York e anche Europa, in qualche modo. Io ho visto lì le opere di Joseph Beuys quando lui ancora era in vita. Lui ha fatto la mostra, la grande mostra in ottanta al Guggenheim che ha influenzato un sacco di persone, anche se il suo linguaggio era subito criticato, però era in visione a New York nella grande retrospettiva al Guggenheim. E anche lui aveva la galleria Ronald Feldman e nella galleria Soho Ronald Feldman faceva fare una performance con un caiote, con un felt. Allora in qualche modo l'artista tedesco è un artista new yorkese che espone, come Boetti, Boetti non è un artista dell'Afghanistan, Boetti è un artista del mondo dell'arte che sceglieva benissimo quale galleria, dove andare, quale critico, quale curatore. Questo è New York, sapere distinguere le buone cose. Qui abbiamo un slide non molto ben fatto dal 71 del lavoro di Hans Hake. C'è anche negli anni 80 la nascita di strategie di criticare le istituzioni, andare fino in fondo nel portfoglio finanziario, per esempio, dell'istituzione dove uno espone. e questa è tendenza, questo è un lavoro di Sherry Levine, 81, dove lei riprende una foto di Walker Evans, lo rifotografa. Adesso vi sto raccontando cose della storia dell'arte, perché il punto che volevo fare oggi veramente è che l'arte è una cosa, da un punto di vista storico, però dall'altro punto di vista, vissuto. Questi tre usi di fotografia, Hans Hake, Sherry Levine e qui Felix Gonzalez-Torres, succedono tutte a New York e sono sostenute e apparano in un contesto, in un fluido amniotico che sostiene questo tipo di esposizione. Tutte le persone si conoscevano, uscivano la sera e andavano a cena nei stessi luoghi, andavano nelle stesse discoteche. e negli anni Ottanta a New York c'è veramente come una piccola famiglia, tutti si conoscevano, qualche artista importante europea veniva, c'erano sempre cene, c'è un po' come Roma è oggi, era molto più piccolo all'epoca. Io ero molto influenzato da questo connubio fra teoria e anche il lato design e spettacolo e ho cominciato a fare mostre negli anni Ottanta usando artisti fra Lichtenstein e Braco Dimitrievich e analizzando l'oggetto attraverso strategie di percezione che mi hanno insegnato gli artisti. Louise Lawler, questo è un lavoro di Louise Lawler, non è una foto di una galleria. Louise Lawler era per me un'artista molto interessante perché lei ha versato l'occhio verso il museo anche prima di persone come Candida Höfer mi sembra e altri artisti tipo Thomas Struth e in questa immagine oppure in questa qua questa qua è una riflessione di un pavimento da Leo Castelli dove c'è ovviamente un Frank Stella sopra però lei ha solo citato il pavimento che è necessario per far mostrare un'opera che vale 5 milioni di dollari. So questo modo di vedere le cose dentro l'arte influisce come si vede tutte le istituzioni, come si vede l'apparato critico. È una cosa molto delicata e sapere che questo è bellezza e chi lo considerava bello era un piccolo gruppo alla fine. Oggi è conosciuto come estetica però all'epoca per capire che questa è l'estetica ci voleva un po'. Questo è un altro lavoro di Louise Lawler è una foto del coniglio di Jeff Koons è un quadro di Peter Halley e solo lei prendeva questa foto come critica di far vedere come l'arte è mostrata come l'importanza è costruita. Io adoro Koons e anche Peter Halley però questo essere a un passo dell'apparato istituzionale è un po' l'ambiente degli anni 80. Cominciato negli anni 70 con opere di Daniel Buran per esempio e loro non vanno via continuano a sporrere negli anni 80 e spongono oggi. Per iniziare questa piccola conferenza vi ho fatto vedere un amico di me Daniela Daniela e io abbiamo vissuto insieme per un piccolo periodo a Broadway in Houston io ero per tanti anni moglie di un artista abbastanza conosciuto Daniela compagna abbiamo lottato nelle trinciere della curatela della critica abbiamo scritto abbiamo festeggiato abbiamo litigato abbiamo amato abbiamo vissuto con lots of drug sex and rock and roll non sembra questa immagine però vivere questo ambiente era un'esperienza e il nostro amico Alan Belcher che sta riprendendo a fare opere adesso questa è un'immagine recente di lui lui è un artista di questa generazione di anni 80 che prendono una cosa tipo i stocks di Campbell's Soup con un occhio alla pop art con un occhio alla critica del mercato un occhio alla produzione di pittura e l'immagine un piccolo wink alle graphs dell'arte concettuale questa ironia questa estetica è quella che mi spinge ancora oggi queste sono opere recente di questo artista che ha cominciato la galleria Nature Mort all'inizio no metà anni 80 con Peter Nagy che era una delle gallerie che ha lanciato Coons e Weissman e un sacco di artisti che conosciamo oggi che sono anche nella mostra qui io ho interpretato questa sfida di analizzare immagini attraverso la curatela e qui in Italia con un passato ricco come è io sto continuendo quest'analisi della società o delle strutture istituzionali in un'altra chiave che si trova qui in questa terra allora queste serie di immagini sono ovviamente immagini della Sicilia però sono fatte da un artista new yorkese che è un svizzero traslocato a New York che adesso insegna in Germania Christian Philip Miller non è più non è relevante vivere a New York il fatto è che la sua galleria American Fine Arts era una galleria che creava contenuto allora lavorando io da Roma facendo una cosa in Sicilia con un artista svizzero che insegna a Castle tutto questo può essere considerato New York per me New York è l'artista che adesso vive a Vancouver o a Johannesburg o non importa dove però ha una certa mentalità e questa mentalità si è formata attraverso il crucible che si chiama New York nel mio piccolo qui in Italia sto provando di fare progetti oggetti strutture che continuano un certo dialogo che ho cominciato lì negli Stati Uniti questo è un progetto recente di fare una panchina di ferro che sembra un oggetto artigianale però è una scultura post-concettuale che si può anche usare da un artista austriaco che si chiama Manuel Gorkiewicz e lavorando con Alan Belcher sto creando piccoli progetti dove uso il concetto come motore per fare immagini e voglio lavorare soprattutto con l'artigianato italiano sto facendo un progetto con Mario Airo adesso e si è realizzato nella forma di questo vaso usando un ramista molto bravo al nord dell'Italia questo è per una mostra che ho fatto a Venezia e questi sono oggetti che sto realizzando con artisti in contesti storici questa è una mostra che ho fatto a Carezzonico a Venezia perché mi interessa tantissimo il contesto e voglio creare un incontro fra l'artista e questo tipo di contesto che si trova qui in questo paese allora questa è l'opera di Mario Airo a Venezia questa è un'opera di Stefano Arienti voi dite forse che Stefano Arienti è un artista milanese però Stefano va a New York dagli anni 80 io lo conosco a New York l'ho incontrato per la prima volta a New York abitando con un architetto che è adesso la più famosa in assoluto per le strutture delle gallerie si chiama Annabelle Saldorf questo è il tatuaggio di essere un artista new yorkese questi pellegrinaggi io avevo come ospite a New York sempre Claudio Guenzani per esempio il gallerista di Stefano Arienti certo questo è a Venezia però tutto ha il francobollo di New York sopra in qualche modo questa è l'installazione carrizzonica della mostra che ho curato ora con Arienti questa è un'altra sala di questa mostra Luigi Antani artista italiano io l'ho conosciuto a New York sempre lui aveva mostre lì aveva gallerie lì per me è un artista new yorkese ugualmente come italiano non so se mi spiego abbastanza bene però per me l'arte non ha passaporto io provo di vedere le cose più belle che ci sono le persone che lo percepiscono sono qui a Mantua oppure a Connecticut allora questa è un'immagine del lavoro di Antani in questa sala ha dei pastelli a Carezzonico questo è un altro artista Gabriele Orosco Messicano di nuovo una potenza che si distingue attraverso le sue gallerie importantissime Parigi anche New York il mercato dell'arte come voi forse lo sapete è un mercato globale però ci sono delle standards quelle sono stabilite attraverso le case d'asta che sono soprattutto Christie's Sotheby's ci sono due o tre alternative però più o meno questi discorsi sono fatti a New York e Londra i prezzi sono stabiliti a New York e Londra non vuol dire che solo artisti americani vanno affermati tutto è stabilito nel piccolo mondo dell'arte che è un mondo globale e non ha frontiere questo è un lavoro di Orosco questo è un artista Carith Wynn Evans nella sala a Carrizzonico che ha fatto un lampadario utilizzando il lampadario settecentesco che c'è nella sala e lui usa questa strategia che io amo tantissimo della appropriation dell'ambiente e del contesto qui in Italia questa è la sala di Heimold Zobernig un artista austriaco che osponeva con Andrea Rosen che anche lui lo conosco attraverso New York attraverso gli incontri con Peter Pakesh il grande direttore dei musei a New York questa è un'opera che abbiamo prodotto a Murano insalazione questo è un artista più giovane Flavio Favelli e con questo chiudo lui ha fatto un lampadario per il canale grande a Carrizzonico a Venezia e di nuovo quando lavoro con un artista tipo Favelli o Ariente non faccio una strategia per la mostra per il suo lavoro locale si fa una strategia o si fa un lavoro un discorso che è sempre internazionale è sempre fuori sempre con visione agli altri artisti agli musei di importanza c'è tutto un network che è creato e più o meno per me il network che abbiamo creato downtown era un network di amicizia di esperienze vissute però non voglio raccontarvi di orgie di scene drogate certo ho visto un sacco di cose però queste non sono le cose importanti che sono uscite la cosa bella e importante è che c'era un nucleo di idee e credere in cose belle che io vedo continuare qui in Italia con artisti come quelli che vi ho fatto vedere che considerano tutte le parti di questo piccolo discorso di che cosa è buono oggi e questo per me è New York non la città stessa ok grazie e adesso Daniela grazie grazie per averci invitato oggi e a tutti voi per aver affrontato il gran caldo per venire qui al fresco a sentirci. Ok, eccomi. Io parlerò, seguendo Cornelia, su vari punti che toccano quello che lei ha detto, però forse si può dire approfondendolo in un modo un po' diverso, non contraddittorio, ma piuttosto parallelo e complementare. Direi che è assurdo cercare di comprendere l'arte in termini del luogo dove vivono gli artisti, in cui l'arte viene prodotta, commercializzata, nell'era del cloud, come dice appunto Sir Norman Rosenthal nel catalogo di questa mostra. Infatti, se si pensa per esempio all'arte cinese di contemporanea, per esempio, sembra uguale a quella prodotta in America, in Inghilterra e in Italia. Il luogo geografico non racchiude più in sé una cultura, perciò non è più la trama tramite la quale si può parlare di cultura o della cultura, ossia, esistono ora forse si può dire due mondi dell'arte ben destinti. Uno globale, di cui ha parlato Cornelia, e uno locale, che spesso non interagiscono minimamente. Tant'è vero, seguendo sempre con l'esempio della Cina, c'è un'arte cinese per esportazione e l'arte cinese per uso domestico, con il proprio mercato domestico cinese. I cinesi finora non comprano l'arte cinese globale, mentre a noi interessa proprio l'arte che viene validata come notevole attraverso la rete discorsiva degli addetti del lavoro, che ormai sono globali. Di nuovo mi riferisco a tutto ciò che ha detto Cornelia a riguardo. Ma negli anni Ottanta non c'era il web. I biglietti aerei non erano low cost. Di conseguenza, il territorio contava. Anzi, a New York in particolare, l'impatto dell'ambiente è sempre stato molto forte sull'arte. Si pensa al senso di vertigini, alle pressioni sul petto che uno sente percorrendo le lunghe avenues della città di New York, che si ritrovano anche nelle sculture imponenti di Richard Serra. O, com'è difficile concepire le performance di Vito Acconci, in cui qui, per esempio, un'opera del 69 segue persone a caso per le strade in una città meno anonima di New York, per esempio Roma, dove prevale invece un continuo scambio di sguardi tra sconosciuti. O anche i materiali usati da Eva Hess nelle sue sculture che lei ha trovato per le strade New York, scarti delle industrie che ancora erano presenti nella Grande Mela negli anni Sessanta, come i vecchi fili del telefono ricoperti di stoffa dismessi con cui l'artista ha fatto il suo primo lavoro di grande scala, che è qui. Direi che due assi distinguono l'arte a New York dei anni Ottanta. Uno è che non si tratta di New York City, bensì di Downtown. E due, in modo soporanti, che è comune all'arte di New York, chiamerei Ibridizzazione. Downtown si riferisce alla parte dell'isola di Manhattan, e l'isola è una dei cinque borro che compongono la città di Manhattan. Comunque, Downtown è la parte sotto la quattordicesima strada e fatta eccezione solo per la factory di Warhol, che era leggermente sopra la quattordicesima. Se no, Downtown si riferisce sempre a sotto la quattordicesima strada e non include Wall Street, cioè qui è nominato Financial District, e Greenwich Village pure era un po' esente perché era molto caro. Greenwich Village era la zona dei Beat, però per quando arriviamo già agli anni Sessanta, Settanta, Ottanta era fuori, tagliata fuori. Però il resto, quando si parla di Downtown e di appunto il tipo di vita intenso scambio di cui ha accennato Cornelia, si parla dell'East Village, Soho, Lower East Side, Little Italy, Chinatown e Tribeca. Questa è una zona abbastanza contenuta e si può dire che letteralmente tutto quello che è venuto fuori da New York di culturale viene da questa area geografica. Un breve elenco solo per darvi un'idea sommaria, per esempio, di musicisti vivevano Downtown, da Philip Glass a Richard Hell, a Sonic Youth, Madonna serviva a Continental, un bar degli After Hours dell'East Village, c'erano iscrittori come Allen Ginsberg, William Burroughs, Kathy Acker, danza, c'era Yvonne Rayner, Merce Cunningham e Tricia Brown, registi di film, Jim Jarmusch, Jack Smith, Charles Atlas, Amos Poe e tutti gli artisti i quali o ci vivevano o ci lavoravano o ci passavano gran parte del loro tempo. Con questa, che si può chiamare automarginalizzazione di Downtown, si fonde un centro sui generis di quotidiano scambio discorsivo che spesso sfocerà in collaborazioni. Come per esempio l'ormai storica e nota collaborazione tra le arti di Rauschenberg, Cunningham e Cage o gli sperimenti tra arte e tecnologia di Warhol con Billy Kluver, un ingegnere della Bell Labs che insieme crearono i Silver Pillows, i cuscini d'argento di Warhol. Questo territorio contenuto di Downtown si è basato su una volentà informale di creare un polo culturale alternativo sui generis e do-it-yourself che sostiene uno scambio discorsivo quotidiano che porta ad ibridizzazioni di vari generi. Negli anni Ottanta l'ibridizzazione di Downtown non sarà più principalmente tra le diverse forme d'arti come negli anni Sessanta ma tra altre diverse categorie eterogenee. Emergono fusioni tra arte e teoria francese post-Lacanian e Foucaultiana tra la produzione e la distribuzione dell'arte la produzione e la commercializzazione dell'arte tra l'arte commerciale e l'arte pura tra arte e attivismo sociale e in genere tra low art e high art. In questo senso gli anni Ottanta sono figli gli artisti degli anni Ottanta sono figli di Warhol con però una robusta anima concettuale. Non a caso artisti diversi come Keith Herring Jenny Holzer Andrea Frazier e Clegg and Goodman sono stati tutti studenti di Joseph Kossuth in un periodo quando questo padre dell'arte concettuale elaborava le sue opere sulla decostruzione del contesto. La sinergia tra arte e teoria che ha preso campo negli anni Ottanta è grazie a Silvert Lautringer della Columbia University che importò Foucault Dolores e Guattari eccetera tramite la sua rivista Semiotext e i suoi piccoli libri facilmente commestibili su piccole dosi di teoria francese non c'era nessuno downtown che non ne avesse uno sempre in tasca. I francesi teorici più teorici dell'identity politics e queer theory in particolare sono stati anche tramandati dal Whitney Program che faceva parte del Museo Whitney dove molti artisti degli anni Ottanta hanno seguito corsi come studenti. Poi c'era la fondazione DIA che organizzava conferenze con sale piene sul concetto dell'originalità del ruolo dell'artista in generale teorie ispirate da Benjamin e da Duchamp e queste conferenze includevano sia teorici sia artisti come Sherry Levine Barbara Kruger e Sandy Sherman. A quel tempo Flash Art International che era la versione inglese della rivista italiana pubblicava interviste con teorici americani molto prima di Artform e questa è una cosa che è stata molto all'avanguardia e allora nel farlo. Qui abbiamo Sherry Levine che fa una scultura che richiama Duchamp. Fondere la produzione e la distribuzione dell'arte questo è un altro aspetto di ibrido degli anni Ottanta l'idea degli artisti degli anni Ottanta era di appropriarsi la distribuzione della propria arte perciò c'è per esempio Keith Haring che si vede o si intravede una sua lui seduto lì e poi si intravede una sua opera sul muro sulla piattaforma della stazione della metro sarebbe su sfondo nero e c'è il disegno che lui ha fatto. Keith Haring negli anni Ottanta ha anche fatto una pop shop in cui vendeva a bassissimo costo le sue opere su magliette borse eccetera con l'idea appunto di allo stesso tempo vendere tramite gallerie tradizionali però anche come artista appropriarsi dei mezzi di distribuzione dell'arte. Un altro artista che si fondeva questo l'arte con la sua distribuzione cioè la produzione e la distribuzione dell'arte era Jenny Holzer qui c'è un'opera sua fatta su Times Square e questa è un'altra opera sua la scritta sul Marchi del cinema e l'idea era appunto di crearsi la propria vetrina dell'arte portare l'arte alla gente è uscire dai soliti canali qui c'è una foto di una riunione di Colab che era un gruppo di artisti una quarantina che esisteva dal 79 fino a tipo il 96 mi sembra cambiando membri e loro facevano varie cose da film a mostre e tutto era deciso insieme in modo collaborativo e loro idea era di lavorare appunto in un modo collaborativo e allo stesso tempo portare l'arte nella comunità hanno fatto una mostra molto importante nell'80 che ha lanciato molti artisti tra i quali Jean-Michel Basquiat ma anche il rapper Fab Five e questa era una mostra che loro hanno fatto nella zona di Times Square che adesso sembra Disneyland ma a quel tempo era una zona molto marginale di industria del sesso e hanno preso per un mese un negozio che era vuoto e hanno fatto questa mostra in cui tutti gli artisti mostravano insieme senza dividere senza evidenziare creavano queste stanze in modo collaborativo e questo come ripeto era una situazione che in un certo senso ha lanciato agli anni 80 sia la carriera specifica di vari artisti ma anche l'idea di rompere con molti delle cose che erano ritenute basilari come chi è l'artista l'artista non è più necessariamente il singolo individuo in questo caso una collettiva o bensì un gruppo che lavorano sia indipendentemente sia in collaborazione altri altri esempio di fusione altro tipo di fusione che negli altri 80 presso terreno era la fusione tra l'arte e l'attivismo sociale questo è un manifesto dei guerrilla girls che tappezzavano la città con statistiche reali sullo stato dell'arte del momento per quanto riguardava la rappresentazione specialmente di donne e infatti qui hanno fatto questo su nell'arco dell'anno quante donne sono state recensioni di donne artiste o articoli su donne in varie riviste fanno il paragone e uno usciva per strada praticamente ogni mese vedeva nuove statistiche e loro sono anonimi non sappiamo chi sono però loro facendo questo lavoro di proprio radunare questa informazione statistica e questo è un altro esempio di un loro manifesto un'altra forma di attivismo che è molto direi unico e interessante è Tim Rollins in Kids of Survival Tim Rollins è un artista che ha lavorato nel South Bronx che è la zona più disperata della città di New York con giovani adolescenti però invece di andare lì e insegnargli l'arte ha fatto praticamente ha creato un modo di lavorare insieme con un gruppo che nell'arco dei anni si è fuso e ha sviluppato un modo di lavorare basandosi sulla cooperazione e lo scambio di idee e la cosa interessante di questo è che lui con questi ragazzi ha poi mostrato cioè praticamente sono entrati nel mondo dell'arte mostrare nelle gallerie e anche nei musei e vendere e tuttora questo è un gruppo di loro tuttora oggi che lavorano un'opera loro si vede sullo sfondo e ormai questi kids of survival ragazzi di sopravvivenza perché vengono appunto da zone disastrate e ci sono dei gruppi adesso a San Francisco a Washington insomma si sono espansi e molti dei ragazzi che hanno cominciato con lui sono andati poi in quest'altra città a fare la stessa cosa con altri ragazzi e poi un nucleo originario continua a lavorare anche oggi e questo è un esempio appunto di mentre molti sperimenti di fusione tra arte e attivismo sociale hanno un arco di tempo e poi vanno a svanire questo è un esempio di una formula che continua tuttora questo è un altro gruppo che si chiama group material e anche loro una collettiva eterogenea che hanno non solo fatto cose collaborative e collaborative nel senso di presentare le proprie opere però in un contesto comune insieme e però hanno anche attraversato un periodo in cui volevano diciamo ingaggiare direttamente la comunità della gente meno adagiata e perciò anche includere cose che loro facevano questo era nel East Village portando opere loro nel mostrare accanto a questa cioè della gente comune accanto a questa della loro del lavoro diciamo di artisti più nel senso più stretto altri artisti hanno fuso creato un'ibridazione tra la produzione e la commercializzazione dell'arte perché una cosa degli anni Ottanta che era molto forte era l'idea che c'era un po' un momento disincantato che non si può mai essere totalmente fuori dal commercio fuori dal sistema capitalista però si può porre resistenze da dentro perciò molti non molti ma comunque alcuni artisti hanno cominciato a fare non solo creare arte ma creare i luoghi gallerie per vendere la propria arte e mostrare l'arte dei propri amici o di gente con cui sentono una sintonia prima Cornelio ha menzionato Nature Mort questo è un artista che è uno degli artisti che ha creato questa galleria un esempio di una sua opera questo è un esempio invece di una collaborazione tra un gallerista e Richard Prince che è un artista che hanno creato questo artista immaginario però che lo hanno dotato di un curriculum hanno tenuto segreto il fatto che erano loro e praticamente hanno creato un nuovo artista con le opere con il curriculum vite con le mostre e l'idea era un po' di una delle idee importanti degli anni Ottanta era sempre di avere questa riflessione su se stesso su cosa stesse cioè autocritica autocritica in molti modi diversi però sempre appunto riflettendo su quello che stava succedendo perciò mostri in galleria in qualche modo rifletti l'opera riflette su questo e creare un artista e farlo una fusione di un artista e un gallerista è comunque un commento sulla commercializzazione dell'arte questo è un altro esempio un altro esempio di ibridizzazione era la proliferazione di collaborazioni tra artisti negli anni Ottanta non è che prima non c'erano mai stati collaborazioni però negli anni Ottanta ce ne erano veramente tante questo è un gruppo di tre che si chiama General Idea canadesi molto impegnati sulla battaglia che a quel tempo c'era era cominciato l'AIDS insomma era un periodo molto difficile e loro hanno preso un'opera conosciutissima del pop art americano la Love e l'hanno trasformato in un simbolo su l'AIDS e su creare maggior conoscenza di questa piaga questa è un'altra collaborazione di due artisti che qui rappresentano le proprie galleriste in un in un modo che richiama però il ritrattistica seicentesca dell'olandese questo sono andata troppo avanti poi ci sono altri gruppi per esempio ho menzionato Group Material Paper Tiger Star Twins che non so se c'è ancora al macro ma quella struttura di bambù enorme non so se l'avete vista sono una collaborazione di artisti che erano anche presenti negli anni 80 a New York un altro modo in cui l'ibridizzazione ha marcato assegnato gli anni 80 nei mezzi artistici qui c'è Alan Belcher che è l'altro artista che ha creato la gallina Nature Moor che fa una fusione tra scultura e fotografia in generale l'idea del rendere materiale l'immagine evidenziarla come oggetto era molto importante per tanti artisti l'idea che ormai il mondo era eravamo circondati di immagini che in qualche modo non sono più effime ma sono veramente materiali e hanno un impatto su di noi molto forte questo è un artista Ashley Bickerton che è lui lo considera un autoritratto però è un autoritratto del suo alter ego Susie e è composto da logo di varie cose che lui usava quotidianamente dal canale televisivo che guardava alla Renault al c'è il segno della metropolitana c'è il segno della Nike cioè praticamente l'idea appunto la commercializzazione dell'essere in qualche modo viene riflesso in questa in questa opera un'altra fusione che diventa molto importante negli anni 80 è quella tra l'arte commerciale grafica pubblicità e l'arte pura diciamo con la maiuscola questa è un'opera di Barbara Kruger che ha lavorato come grafica per riviste negli anni 70 e poi si vede marcatamente prende questi questo design molto fortemente ispirato anche dall'avanguardia russa però che comunque è filtrato tramite la grafica di oggigiorno altri artisti che hanno fatto questo è Richard Prince anche lui lavorava nel reparto di fotografia di una rivista questa è un'immagine di una mostra di Jeff Koons in cui ci sono le famose sculture con il basketball e poi ai muri c'è i quadri che rappresentano quasi come se fossero pubblicità per qualche ditta sportiva qui un'altra immagine questa è un artista Ken Lum che prende invece immagini cioè grafica molto basso questi possono essere tipo dei manifesti che vedi accanto a un alimentare lungo la strada non so nemmeno come si chiamano queste lettere che vengono appiccicate individualmente per creare questi diciamo manifesti un po' di basso livello e lui li usa le li appropria per poi inserirci altri messaggi per esempio qui parla di questa è un'agenzia di viaggi però poi del Hanoi perciò già lì anni Ottanta insomma il Vietnam non era poi così lontano e poi l'ultima frase we remember the people's war ricordiamo della guerra della gente del popolo New York viene chiamata una melting pot una casseruola in cui le cose si fondano per l'arte downtown è stata una melting pot negli anni Ottanta cuocendo ibridizzazioni diverse varie ed inaspettate spero di avervi dato un po' un senso della grande varietà di sperimentazione che diciamo io direi definiva quell'era che in gran parte sono state assorbite e normalizzate dal mondo dell'arte vengono riproposte tuttora si vede sono evidente queste cose queste ibridi però al tempo erano nuove erano inaspettate appunto e molto cioè che stavano rompendo nuovi spazi nuove possibilità per l'arte in un certo senso è difficile capirlo oggi perché è diventato quasi la norma però molti di queste cose sono in effetti ibridi e sono cose che sono hanno veramente preso il via negli anni Ottanta a New York proprio perché c'era questo contesto molto come ha detto Cornelia molto piccolo alla fine in cui c'era questo grande scambio discorsivo collaborativo anche con molta gente che veniva da fuori perciò c'era anche molto ricambio di idee però in quel senso quel senso di territorio che che rende possibile certe prassi forse adesso con in media con la facilità di spostarsi e la velocità dell'informazione che viaggia cambierà molto radicalmente cioè questo è un periodo quasi è veramente in un certo senso molto distante come contesto e però allo stesso tempo come risultati proprio pratici vive tuttora nelle opere di tanti artisti nuovi artisti giovani artisti che lavorano oggi grazie 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 grazie